Da Peser a Urbino e da Urbino a Peser. In realtà si tratta di una commedia comica scritta da Paolo Cappelloni, che è un pesarese d'occo. Praticamente io pensavo ci fosse rivalità tra Peser e Urbino, invece lui mi ha detto no, noi abbiamo la rivalità tra Peser e Fano. Urbino è come se non c'è forza. Comunque la scritta è lo stesso, nel giro di un mese l'abbiamo rappresentata due o tre volte. Questa sarebbe la sesta volta che la rappresentiamo. È in parte in dialetto urbinate e la controparte in dialetto pesarese. Praticamente è la stessa cosa ma fatta con due dialetti diversi. È sicuro che si ride, questo è certo. Almeno fino adesso è andata così.